Posso? Non solo l'ufficio tecnico. Non solo l'interazione del principio, cioè la sostenibilità ambientale, come questo sia compatibile con alcuni dei progetti che sono stati molti negli altri. In particolare c'è una questione di competitività con i principi provinciali. quindi sapete che a nonostrale la campagna che si è dichiarata dalla provincia un corridoio ecologico e su quest'area, sulle aree vicine, vanno ad impattare una serie di interventi umanistici previstiche da questo piano e da altri interventi approvati che hanno un impatto effettivamente molto pesante e hanno anche a, secondo noi, concomitare quello che è fatto da paziente sulle indegnazioni, diciamo, componenti fanno dei nuovi ciri per tardi, per cui vorremmo in questa sede, diciamo, una serie di risposte in particolare, sui tre punti che abbiamo inserito nelle osservazioni, soprattutto dal punto di vista e dell'impatto degli insediamenti, perché abbiamo un impatto molto grosso su Cilesio per cui sopravviste poi, da quello che diceva la provincia, quello che dicevamo, collegamenti stradali non soci, potrebbero andare, ma anche, via, di questo, ci vediamo di chiarimento, avremmo di chiarimento su questo aspetto, in cui alcune situazioni, anche, quindi, configurate, non è necessario passivamente con il sanonato, abbiamo sentito alcune sanonato, pensavamo che fossero potenti prima più o meno, non è necessario, ma con una considerazione si vede che lo sai, ma è proprio di questo. Ecco, ma questo mi pare significativo. In particolare, vogliamo capirsi su questo aspetto puntuale, come l'insediamento grosso di cilindro si va a collegare con la viabilità, da quello che abbiamo visto nel piano, se è un'insediamento di collegamento subiettivittorio, che è un'area assolutamente inconcepibile per noi, che è di fianco rosino nido, taglia la campagnetta, il periodo emologico, e tutto il resto. Ma, da quello che vediamo dagli allegati, ci pare che si configuri anche un altro perversamento, in connessione anche con gli elettrici 9 e 10, e cioè, vogliamo per dire, se è previsto un avventamento stradale, che passa sul livello vittorico. Questi colleghi, a Civeso, questo vorremmo spostare anche su Terezze, sappiamo che è stato chiesto anche la nostra stazione di San Brato, perché evidentemente questo è un avventamento, quindi dovremmo capire se è previsto il collegamento Civeso e in tutta la viabilità e se sono avventato passato. In particolare, come sapete, noi teniamo inconcepibili i due insegnamenti previsti alla fine di livello vittorico, giocando, giocando su un lato, dentro al Parco Sud e con Firenze di San Donato, per una mamma murale, una spia ultra popolare, per lo so ripeto, in tutto aspetto, e non capiamo se, in qualche modo, ci sia un ragionamento su questo San Donato di San Donato, che comunque, secondo noi, va in un caso di Rimossa, che è una cosa inconcepibile. l'altro aspetto che vorremmo capire, prima ci cittava un colpardo in ciliegio, quindi l'apertura del sottopasso di testo di arco, e il sottopasso del testo di arco significa rinforzatura capabile, quindi un altro attraversamento per arco che riporta gli insegnamenti, oltre al sottopasso dietro allo spin, per intenderci quello che è stato certo, poi le previsioni di gestizione del porto sud. Nella vostra, nel quale abbiamo, si parla anche della, una volta che vi faccio vedere, anche della mobilità del sottopasso trattuale della stazione, c'è scritto, in una delle immagini nella motte, non so sempre che scurdo, se dovete non데 todo la parte, quindi dovrebbe capire quello, perchè il logo è andate a superare una strascimento sociale, come ci si arriva, andate , speriamo di no, a costruire altri palazzi in fondo di Qu Democrat, come ci si arriva��, se ci arriva, se c'è vicosporso dalla mia mia, si entri discorso alla mia milia, è giàeez ocorisoso, se poi, se volete muεςare la societità e ve la scimтивa, cambia di comune di sporsi, però possiamo dare una maggioranza, se sono microscopici? Perché mi far finire e poi, magari chi rispondete a tutti, ok. L'altro aspetto, per sintetizzare, gli interventi urbanistici sul fondo di l'ambientale si confondono in un'interazione di collegamenti stradali e poi sul verso di una serie di ragionamenti, iniziamo sulla comunale, ovviamente, ma non è necessaria che sia potenzialmente anche i monologi, che vorremmo chiarezza. Però una cosa che ci interessa per cuire è che sono studiato a esempio di stradali, perché ovviamente se si taglia l'avversale Campagnetti, piuttosto che la zona tra Sesso Gatto e Civese, si va a distruggere il fatto delle pazzie, il fatto dei monci, come chiamarci. Su questo abbiamo avuto incontri anche con la sedia di Pondone e con i politici di lavoro, quindi abbiamo avuto un po' di risposta. Come si chiama? Mi chiamano il proprio biello.